Finalmente, cari amici, è uscita fuori la data ufficiale della registrazione della semifinale per quanto riguarda il serale di Amici e in questi giorni infatti c'è stato molto fermento attorno al programma e perché sapete no? C'è stato questo maledetto Covid che è riuscito ad entrare nella casetta e oltre ad alcuni alunni anche altre persone che fanno parte dello staff hanno alla fine contratto il virus. In questi giorni si è parlato dei positivi e oltre a Mattia Zenzola si era vociferato anche per quanto riguarda Maddalena Svevi, quindi praticamente i contagiati erano due, adesso ci si mettono anche tutti coloro che sono dietro le quinte. Dopo la notizia lanciata da Dagospia, la madre della ballerina di Amici 22 è intervenuta smentendo tutto. Ieri Maddi mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8, si leggeva nello screen condiviso dalla pagina Amici News. E infatti la ballerina non risulta tra gli alunni positivi. Nel Daytime andato in onda mercoledì 3 maggio il pubblico ha scoperto chi sono i quattro allievi positivi. Si tratterebbe di Angelina Mango, Isobel Kinier, Mattia Zenzola e Aaron Cenere. In una clip mandata in onda, infatti, i giornalisti hanno parlato degli allievi della scuola svelando i nomi di chi si trova in quarantena. Dopo la notizia è saltata fuori una nuova indiscrezione sulla registrazione della semifinale del Talent Amici 22, che però si è rivelata una fake news. Fino al 3 maggio, infatti, si pensava che la semifinale di Amici 22 potesse andare in onda indiretta e non registrata come sempre. Forse sarebbe stato troppo difficile gestire la trasmissione indiretta, così la produzione ha pensato di posticipare il tutto a venerdì 5 maggio. Dateci ancora qualche ora per la conferma ufficiale, ma a quanto pare l'ultima registrazione è stata quella di giovedì scorso si leggeva su Twitter a quanto pare la semifinale sarà in diretta sabato sera. Dopo giorni di notizie incerte, è arrivata la comunicazione ufficiale. Come riporta la pagina Amici News, infatti, la produzione di Amici 22 ha confermato che la registrazione della semifinale di Amici 22 si svolgerà venerdì 5 maggio. Venerdì si registrerà la semifinale di Cancelletto Amici 22. L'ultima registrazione di quest'edizione si legge sul profilo Twitter. Grazie a tutti.